Augusta, incidente stradale, auto si ribalta, interviene l'elisoccorso, ferito 53enne. Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12, si è verificato un incidente lungo l'autostrada a Catania-Siracusa in direzione di marcia verso Catania. A rimanere coinvolta un'autovettura Dacia-Daisner, che apparentemente in modalità autonoma, non compromettendo quindi nessun altro veicolo, avrebbe perso il controllo ribaltandosi sulla corsia. A bordo del veicolo un uomo di 53 anni, che secondo le prime percezioni ha riportato lesioni ancora da valutare in funzione della prognosi spettante ai medici del pronto intervento. Per questione di cautela sanitaria, l'uomo è stato trasportato tramite l'elisoccorso in ospedale per le cure del caso. Accorsi sul luogo del sinistro gli agenti della Polizia Statale, appartenente al commissionato di Lentini, con l'intento di valutare la dinamica esatta dell'evento incidentale e sanitario del 118. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato in direzione Catania e in avvicinamento al km 15. A tal proposito, sul luogo il personale di ANAS per la gestione della viabilità per la ripristina della normale circolazione nel più breve tempo possibile.